Ringiovanire il mondo per non morire in questa gabbia d'acciaio e per tornare a vivere un'esistenza autentica, degna delle potenzialità del genere umano. È questo il significato più profondo del manifesto di cui lei è il primo firmatario? O meglio, il manifesto è un invito a reagire nei confronti del presente per agire rivolgendosi al futuro? Sì, direi che questa volontà di riaprire il futuro, di riappropriarsi della storicità e quindi del perseguimento operativo o di un'ulteriorità nobilitante rispetto alla miseria presente, è in effetti il grande tema sotteso a tutte le undici tesi ed è anzi il nucleo fondamentale a cui esse si ispirano. Perché appunto, come dicevo anche poc'anzi, siamo in un tempo di presente eternizzato che finisce con le sue prestazioni invasive per occupare anche il futuro, facendo del futuro stesso la proiezione in avanti del presente e quindi neutralizzando la possibilità di futuri alternativi. Il manifesto che qui presentiamo invece è convinto che il nostro tempo corrisponda a quello che il filosofo Fichte chiamava il tempo della compiuta peccaminosità, cioè il tempo dell'alienazione pienamente compiuta, il tempo in cui l'umanità ha perduto completamente se stessa e è diventata straniera a se stessa, il grande tema idealistico e marxiano dell'entfremdung, dell'alienazione, il divenire stranieri a se stessi, e quindi oggi occorre reagire rispetto a questa perdita di sé. Una perdita di sé che a tal punto è pronunciata da non essere nemmeno più avvertita come tale. E infatti la situazione paradossale dell'odierno scenario di cui ci troviamo a essere abitatori sta tutta nel fatto che siamo nella compiuta peccaminosità e non ce ne rendiamo conto. Per dirla con Martin Heidegger, siamo in uno scenario di notte del mondo, Weltnacht, in cui il buio è a tal punto buio da rendere impossibile vedere anche il fatto che sia nel buio. E quindi il manifesto di cui stiamo facendo la presentazione è un tentativo di reagire contro questa alienazione planetaria per riaprire il futuro e per tornare a lottare in nome dell'umanità oggi mortificata. L'umanità oggi è mortificata per tutta una serie di motivi, in primis per il fatto che il signore del mondo, la produzione, fine a se stessa, utilizza l'umanità come proprio strumento. Si produce per produrre, per dirla molto banalmente, e non per soddisfare bisogni umani. Rispetto a questa produzione l'umanità stessa diventa puro intermediario. Ma poi l'umanità è ridotta a merce circolante sul mercato, non soltanto perché sempre più si afferma la formula aberrante e essa stessa gravida di ideologia mercatistica, la formula capitale umano, con una riduzione integrale dell'umano a merce. Ma poi anche per il fatto sempre più evidente, il precariato ne offre una triste e tetra conferma, che l'umano è ridotto sempre più al rango di merce, di merce circolante sul mercato. Ora, il manifesto muove dal presuttosto piuttosto che questa situazione corrisponda alla perdita di sé nella propria storia da parte dell'umanità e che tale perdita non abbia nulla di fatale, naturale e di, potremmo dire così, non rimediabile, ma sia invece l'esito storico di un processo che è so stesso in tessuto di alienazioni e disalienazioni, e tale dunque da poter essere superato nella prassi, a patto che la prassi si organizzi anzitutto nell'autocoscienza degli attori sociali che debbono comprendere la situazione in cui si trovano, debbono comprendere l'orientamento in nome del quale pensare e agire e debbono di conseguenza agire operativamente in nome del superamento della peccaminosità compiuta.